Arriva la prima beffa dal mercato per il Teramo. È sfumato infatti l'arrivo del promettente terzino italo-francese, classe 94 di proprietà del Milan, Joad Ferretti, che proprio ieri ha trovato l'accordo con la SPAL. Il Teramo quindi è arrivato a un passo dal giocatore, ma non è riuscito a chiudere la trattativa. Adesso il DS Marcello Di Giuseppe dovrà spostarsi su altri obiettivi per rinforzare la difesa e aggiungere tasselli. E a tal proposito si attendono notizie dalla società riguardo gli ingaggi dell'attaccante Donnarumma, del difensore Perrotta e del centrocampista Madio, con i quali è stato raggiunto da tempo l'accordo. Ci sono poi le trattative in via di definizione con il terzino Martella e l'attaccante Nicastro. A centrocampo risulta che è stato effettuato un sondaggio per Fabio Mercuri, reduce dalla stagione con il Cosenza di Cappellacci. Il giocatore però sembra molto vicino a firmare con la Reggiana. E in casa l'Aquila sono giorni in cui il mercato è stand-by, in quanto i rosso-blu hanno una situazione economica complicata. Situazione che pone alla società come obiettivo primario la cessione dei giocatori che non rientrano nel progetto e pesano sulle casse del club. Tra i più appetibili ci sono il centravanti Infantino e Francesco Ripa, vero e proprio oggetto del desiderio di molte società dopo i 22 gol realizzati la scorsa stagione con l'Arzanese. Infantino piace molto a Rimini, mentre per Ripa è forte l'interesse della Juve Stabia. Tra gli altri nomi da piazzare ci sono quelli di Di Maio, Ligorio, Improta, Gizzi, Testa, D'Amico e Trearico. Da decidere poi il futuro del gioiellino Frediani, ambito da molte squadre di Serie B, Lanciano in primis ma anche Crotone. Difficile che rimanga ancora un altro anno in terra aquilana. Nel frattempo sono state ufficializzate le date del campionato. Si comincerà il 31 di agosto, mentre l'ultima giornata si giocherà il 10 maggio. La domenica successiva prenderanno il via ai play-off per accedere in Serie B. Grazie. 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 Grazie.